Oggi secondo giorno del derby, è la giornata dedicata ai richiami e ai turni in coppia dei cani classificati. Ci troviamo in un terreno bellissimo, in condizioni ottime di clima, di sole, di temperatura, il vento non ha sempre una direzione, un'intensità costante, comunque siamo in una situazione ottimale per valutare i nostri continentali italiani. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.